I disturbi muscoloscheletrici rappresentano la principale causa di disabilità nel mondo e sono uno dei disturbi più comuni che affliggono milioni di persone. Su un caso su tre si tratta di lombalgia, ma non solo. In genere i disturbi muscoloscheletrici, oltre la schiena, colpiscono anche il collo, le spalle, gli arti superiori e inferiori in certi casi. Quali sono le principali cause e come è possibile allora intervenire? Quale ruolo importante può assurgere in questo la medicina funzionale? Ne parliamo oggi con il dottor Marco Lombardi, medico specialista in patologia clinica e in biochimica clinica. Ascoltiamolo in questo servizio. Per quanto riguarda i disturbi muscoloscheletrici, la medicina funzionale ha un approccio integrato di tipo olistico, cioè va a ricercare le cause all'origine di questi disturbi, in particolar modo va ad indagare, ad esempio, alterazioni a livello posturale, un esercizio fisico inappropriato o un'errata gestione dei carichi di allenamento, un'errata nutrizione di tipo infiammatorio con alimenti che rischiano di aumentare il livello infiammatorio e che quindi possono portare ad un peggioramento dei sintomi anche a livello muscoloscheletrico. Per quanto riguarda poi il discorso ormonale, è importante anche sottolineare che ci sono degli ormoni che possono aumentare il livello infiammatorio, come ad esempio un eccesso di cortisolo, che è l'ormone dello stress che può favorire un aumento del grado di infiammazione e portare ad un peggioramento dei disturbi anche su base articolare. Inoltre un altro fattore da considerare è la condizione a livello gastrointestinale in quanto un'alterazione della barriera intestinale con un gonfiore intestinale, un dolore addominale può ripercuotersi anche a livello articolare determinando anche qui un aumento del grado di infiammazione a livello muscolare ed articolare e portare quindi il soggetto ad un'alterazione funzionale. Per poter ovviare a questi disturbi è appunto, come dicevo, importante indagare il tipo di alimentazione privilegiando alimenti di tipo antinfiammatorio, come ad esempio gli omega 3, gli acidi grassi polinsaturi omega 3 presenti nel pesce azzurro oppure utilizzando altri alimenti dal forte potere antinfiammatorio come la curcuma. poi gestendo adeguatamente l'attività sportiva e i carichi di lavoro e di allenamento conseguenti e valutare anche la condizione a livello gastrointestinale e dello stress che può andare a perturbare l'equilibrio di tutto l'organismo.